Matteo, come è andata una volata molto difficile contro tutti i detonanti? Sì, un finale difficile e pericoloso, tante curve, tanti corridori affamati, però il finale quindi non è stato facile. Come è andata l'ultima linea? Beh, ho preso l'ultima cura, forse un po' troppo indietro, ho fatto un buon sprint ma purtroppo l'ho lanciato da troppo indietro, quindi peccato. Che pensi della tua forma in questo momento? Ah, ho faticato tanto, però dai, piano piano sto avendo dei buoni segnali, quindi penso di essere sulla buona strada. Adesso che va del programma? Uae, settimana prossima, quindi una bella corsa. Grazie mille. Grazie.